Bisogna essere in generale molto contenti di quello che ha fatto la squadra, perché poi oltre che il primo quarto d'ora ha costruito anche delle situazioni importanti anche durante l'arco della partita, che si possono segnare, si possono sbagliare, però nella ricerca è sempre stata puntuale e aggressiva. Sono punti importanti perché l'abbiamo fatto contro una squadra tosta, contro una squadra che gioca un buon calcio, che ha un allenatore che sa fare calcio, per cui siamo molto contenti, però ci servono per andare avanti perché è quello che dobbiamo fare, quello di vincere le partite.